Oh, mi devi fare una foto con te. Eh, vabbè. Eccoci. Alla grande. Io ti stai regalando questo corno. Sì. Però adesso a questo corno facciamo il trattamento antimalocchio. Trattamento antimalocchio. E tu ripeti con me. Sì. Ripeti. Corne e bicorne. Corne e bicorne. Aglie e fravaglie. Aglie e fravaglie. E fatture che non guaglie. E fatture che non guaglie. Cio cio. Cio cio. Cio cioe. Cio cioe. Magica, perché? E per te perché? Guarda, secondo me non c'è una risposta a questa domanda. E lo denuncia chiaramente il film. Perché le visioni sono tante. Perché la magia, nello specifico di questa città, può essere anche ritrovata in cose semplici. Nel gesto di ritrovarsi a bere un caffè, di scambiare quattro chiacchiere, quindi dando un'altra dimensione al tempo, no? Che è contrario alla velocità che ci impone il contemporaneo. Come si chiama la strada che abbiamo appena attraversato? Via Partenope. Promossa. Perché si chiama Via Partenope? Magari è l'interrogazione. Bocciato. Perché pure questo è un luogo magico. Partenope. Chi era Partenope? A Sireno. Bravo. E tu come lo sai? Il mio padre ha raccontato questa storia. E che ti ha raccontato? Che era morto lì. Dove? Su quello scoglio. Su quello scoglio là? Sì. E com'è morto? È stato lì. È magica perché è una città stratificata da un punto di vista storico, politico, sociale. È magica perché convivono in essa due animi che sono sacri e profani insieme, che sono altissimi e miserabili allo stesso tempo. Quindi per me è magica proprio perché è conflittuale. Dentro questo conflitto mi sembra di ritrovare una magia che difficilmente ritrovo altrove. Ma io quello che sto cercando è qualche storiella, qualche fattariello che ha riempito... Grazie! È una magia! Questa è una magia! Ma qualche storia che ha riempito questa città, questa di cui vi ricordate, di cui avete memoria, qualcosa? Sentite questo fatto. Io tenevo una zia a Monica. Diceva che sotto a questa città, c'è stanata città, dove stanno insieme, è morto che vive. E non si distingue chi è morto a chi è vivo. Stanno insieme. Si parlavano. Ce la parlavano. E poi c'è la gente, no? Cioè tu fai gli incontri pazzeschi di persone che, come dire, sono felici intanto di vedere te perché ti fanno una grande festa. Però sono in primo luogo loro stesse, assolutamente naturali, no? Assolutamente. Anche perché il principio su cui si basa la scrittura di questo film sta nell'ascolto. Non abbiamo imposto nulla alle persone, ma abbiamo cercato in qualche modo di stimolarle, di incuriosirle e di ascoltare quello che avevano bisogno di dire. Boh! In un sacco si sussurra fantasia. Ma io ci credo. Però poi nella seconda parte tu fai un altro viaggio che mi sembra che è un viaggio forse un po' più profondo, no? Questo chissà, magari è un viaggio anche dentro di te, insomma, me lo racconti. Guarda, abbiamo deciso di raccontare Napoli attraverso i suoi stereotipi, i suoi luoghi comuni. Uno di questi è Napoli, è un palcoscenico a cielo aperto. Quindi partendo dalla struttura del palcoscenico, ci siamo immaginati che vi fosse una superficie in cui incontrare gli attori che agiscono su questa scena. Ma così come erano fatti i palcoscenici di una volta, cavi come delle casse armoniche, c'è un sotto, c'è un sottosuolo che è abitato, è abitato da voci, è abitato da presenze, è abitato da miti. E quindi questa scoperta che dici tu, che è anche molto intima, sta nella decisione di scendere lì sotto in quel buio e di far ascoltare queste voci, di farle ritornare in superficie. Come si fa a tornare indietro? E tu domanda il buio? Che il buio di risponde? Saremmo immortali! Se venite con me vi porto fuori. Ma tu sei pazzo! Noi tutte le lingue non ci veniamo! Tu vogli sentire cantare? Sì, tu canti il sento! C'è un luogo del cuore o chissà una situazione, un personaggio? Guarda, sono tantissimi i luoghi del cuore, così come sono tanti i luoghi in cui mi sono imbattuto grazie a questo progetto. Devo dire che la cappella del principe di Sansevero con tutta la storia e tutti i conflitti che pone in essere e soprattutto l'esperienza di quel personaggio in questa strenua difesa della conoscenza per restituire un'eredità alla città è una cosa che mi ha toccato profondamente.